...dall vivo un pezzo o due, non lo so bene come vogliono fare. Bene, questa giornata è stata costruita insieme, tra la scuola materna e la scuola superiore. Lavorare con i vostri maestri è stato veramente un piacere, sono persone squisite. E' bello vivere nel boschetto, ma ci sono tanti che mi fanno paura. Vorrei che ci fosse così... Grazie. 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 Grazie.